Le evidenze che la Germania utilizzi delle tecniche commerciali che mi verrebbe da definire militari per riuscire a ottenere la supremazia nell'export sono ormai costanti e tutto sommato buona parte della politica europea è sempre stata uniformata agli interessi della Germania e ai nostri danni perché non dimentichiamo che la Germania è vero che sia un partner commerciale ma è anche il nostro principale competitor in quasi tutti i settori dell'export e quello che mi sono sempre sgolato cercando di avvertire è che questa balla dell'Europa unita era una bugia perché in realtà essendoci interessi contrapposti e bilanci separati quello che va bene per la Germania probabilmente andrà male per l'Italia e il fatto che la nostra battaglia contro la moneta unica è sempre stata anche mirata per far capire che se una stessa moneta per economie differenti avvantaggia la Germania dall'altra parte svantaggia l'Italia perché è troppo leggera per loro e troppo pesante per noi dato che abbiamo economie differenti e purtroppo la Germania ha sempre, nonostante ciò, informato la sua politica all'export in un modo parassitario perché praticamente cosa ha fatto? Ha invaso il mondo con i suoi prodotti grazie a una moneta artificialmente svalutata, ciò nonostante non ha messo in atto nessuna politica collaborativa, non ha cercato di rilanciare la propria domanda interna in modo tale da fare da locomotiva, no, anzi ha compresso ulteriormente i salari e l'intento adesso di far arrivare migranti da tutto il mondo serve sempre, sempre funzionale a questo piano di abbassare ancora di più salari. Vogliamo però magari non mettere tutto insieme no, ho capito, però almeno inquadriamo la faccenda, poi dopo così sono degli spunti, glieli regalo così poi dopo vanno approfonditi. Per non fare di tutta l'erba un fascio diciamo. Vabbè, basta così, così do il quadretto generale e così siamo a posto. Il quadretto come si conclude? Si conclude che come normalmente nelle vicende belliche, poi dopo è successo in passato, la Germania inizia molto aggressivamente cercando di invadere tutto quello che ha d'attorno, poi dopo arrivano gli americani e gli danno la sveglia. Il fatto che la Germania sia molto vulnerabile in quel punto, lo sapevano gli americani, se voi andate a vedere i rapporti che andavano in mano a Jack Lew, vale a dire ai vari responsabili per l'economia americana, dicevano che per l'industria US la Germania era più pericolosa ancora della Cina.